su un campo al limite della praticabilità per la pioggia insistente caduta nelle ultime ore ponte bugianese va di nevole montecatini si dividono la posta in palio i biancorossi vanno in vantaggio al quindicesimo del secondo tempo con nardi e tre minuti dopo hanno la possibilità di raddoppiare per un calcio di rigore assegnato per un atterramento di martinelli in piena area sul dischetto vannardi ma sasha beizaku classe 2006 intuisce e nega il raddoppio all'attaccante avversario all'ultimo secondo di recupero il montecatini pareggia con fedi che risolve l'ultimo salto il pareggio serve solo a muovere la classifica per le due squadre che restano in zona play out